In considerazione della difficile situazione in Terra Santa, il 20 luglio si è tenuta una solenne celebrazione della festa del profeta Elia, Mare Elias, che sconfisse gli adoratori di idoli durante il regno del re Aqab nel X secolo a.C. Sant'Elia è una testimonianza per tutti noi, chiamati ad adorare il Dio vivente. La messa solenne è stata celebrata da Monsignor Youssef Matta, arcivescovo di San Giovanni d'Acri, Aifa, Nazareth e tutta la Galilea per i cattolici greco-melchiti, con la partecipazione di un gruppo di sacerdoti. Il Vescovo Matta ha detto all'inizio del suo sermone «Dichiariamo con Elia, il profeta della verità e della giustizia, che vive il Signore davanti a me, perché la gloria di Dio è la dignità umana. Ciò che ci deve riunire in questa Terra Santa è anche il progetto di un futuro comune e sicuro per tutti. Non è tollerabile una guerra che uccide innocenti da ogni parte». Sua eccellenza ha condannato gli attacchi contro chiese, sacerdoti e suore, invocando il diritto e la convivenza umana. «Affronteremo questi problemi invitando il nostro Presidente e le autorità a preservare questi luoghi sacri, perché testimoniano il Signore Gesù Cristo qui, nei luoghi della sua vita, e il mondo intero presta attenzione a questi luoghi santi e li visita. E se si danno testimonianze negative dell'agire negativamente in questi luoghi, ciò si riflette immediatamente sul turismo e minaccia la presenza dei cristiani in Terra Santa». Alla celebrazione della festa del profeta Elia hanno partecipato numerosi credenti provenienti da varie città e villaggi della Galilea, molti dei quali hanno acceso candele nella grotta sotto la chiesa dove, secondo la tradizione, il profeta Elia si ritirò in preghiera. «Siamo venuti oggi per celebrare il giorno di Sant'Elia e per chiedere l'intercessione di Sant'Elia, che ci conceda forza di fronte alle sfide della vita, che voglia proteggerci e accompagnarci». L'idolatria non era presente solo al tempo del profeta Elia, ma è ancora molto presente oggi. Idolatria sono il denaro e l'orgoglio. «Oggi celebriamo la figura e il messaggio di Sant'Elia e chiediamo la sua intercessione per distruggere gli idoli del nostro tempo, così come tutte le disparità sociali e i conflitti che affliggono la nostra nazione. Gli chiediamo di rafforzare le nostre anime affinché il seme di Sant'Elia fiorisca in tutti noi. Per questo invochiamo il bene a iniziare dalla nostra realtà quotidiana. Anche i conflitti familiari sono un grande idolo. Chiediamo a Mare Elias che li distrugga». «Per intercessione di Sant'Elia ti chiediamo, Signore nostro Dio, di stendere la tua mano dall'alto, dalla tua santa dimora, di stare in mezzo a noi, come con Sant'Elia, e condurci alla gloria della risurrezione del tuo figlio Gesù Cristo, insieme con la sua Santissima Madre, nostra Signora del Carmelo, la semprevergine Maria». «Per intercessione di Sant'Elia» «Per intercessione di Sant'Elia»